ben ritrovati di nuovo su review you oggi vado a recensire insieme a voi un articolo davvero interessante acquistato su amazon ad un prezzo irrisorio vi lascio il link in descrizione qui sotto si tratta dei coni adatti coni di incenso adatti per quelle fontane che fanno cadere diciamo il fumo creando un effetto cascata si trovano su amazon tantissimi coni spesso quelli colorati rosso giallo verde diciamo un po mix però quelli solitamente tendono a puzzare questi invece dovrebbero essere naturali così come c'è scritto sul sito del venditore e devo dire che sono davvero profumati già aprendoli così in questo caso si tratta di una fraganza chiamata the buddha un'azienda indiana tra l'altro che riproduce e praticamente è un incenso tradizionale naturale rilassante che ha una nota proprio floreale infatti si sente molto questo odore di fiori diciamo molto dolce e devo dire che arrivano 18 coni all'interno di questo sacchettino ermetico e sul retro c'è anche scritto ovviamente le indicazioni in inglese tra cui che si deve bruciare fino alla parte rossa per vedere l'effetto cascata di fumo e inoltre si deve anche diciamo tenerli in un posto dove è un po' ventilato altrimenti non si crea l'effetto cascata hanno dei fori al di sotto e quindi sono quelli adatti per questo tipo di fontane ve li consiglio davvero perché secondo me ne vale la pena acquistarli link in descrizione come sempre alla prossima review